Adesso facciamo un lavoro dove sono 8 gambe, 8 spalle, 4, 4, 2, 2 a scendere, ok? Così, sollevo i fianchi, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e le spalle, vado, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 4, fianchi facciamo, 4, 3, 2, 4 spalle, 4, 3, 2 e 2 glutei, 2 spalle, 2, 2, 1, 2, andiamo in singolo, fianchi, spalle, 2, chiudo, 3, chiudo, 4, chiudo, 5, 6, 7, ancora, torniamo su 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, spalle, e 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 4, fianchi, 4, 3, 2, 4, spalle, 4, 3, 2, 2, fianchi, 2, 1, spalle, 2, fianchi, 2, e singoli, fianchi, 1, spalle, 2, fianchi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, eccellente, e passiamo sul prossimo esercizio. Questo esercizio è plancia laterale, di nuovo lo terremo proprio per il minuto, ok? Ci sono diversi modi che io posso tenere le gambe per questa plancia, questo è abbastanza avanzato, questo è ancora più avanzato, questo magari è poco poco più facile e divaricare le gambe è ancora più semplice, proprio per far sì che diventa, diciamo, magari in questo senso distribuisco al meglio il peso tra le gambe e il punto vita, ok? Siamo a 28 secondi, 30 secondi, ok? Continuate di sollevare proprio l'anca, su, ok? Tira su, tira verso su, tira verso su, continui, ok? Ci siamo quasi, vai, tirate su, tirate su, minuto in, diciamo, complessivamente in minuto, poi ci possiamo cambiare all'altro lato, ok? Però ricordate, a 20 o 30 o 40 secondi potete tranquillamente cambiare la posizione quando vi sentite troppo stanche. Passiamo dall'altro lato. Andiamo a fare un minuto di plancia dall'altra parte, di nuovo scegliete la vostra posizione, diciamo che preferite, un minuto da adesso, sollevando da sotto. Provate ad immaginare che state proprio stringendo, ok? Le vostre abdominali, tirali dentro, sollevo dalla parte sotto, braccia fanno andare su, se volvamo diventare veramente difficile possiamo anche alzare le gambe. Dipende da te, ok? Perché ci sono diversi fattori che possono rendere una plancia più o meno difficile, alzando le braccia, alzando le gambe, ok? Il tempo, ok? 20, 30, 40 minuto di tempo, ok? Ci siamo ancora 25 secondi, continuiamo. Tiri su quest'addome, questa è la plancia laterale, classico. Uno degli esercizi migliori proprio per il punto vita, per quanto mi riguarda. Continuate 15 secondi, poi cambiamo di nuovo l'esercizio, plancia su plancia, plancia su plancia, eccellente per il nostro punto vita. Ultime 5 secondi e poi passeremo al prossimo esercizio, brava! Ecco, andiamo al prossimo esercizio insieme. L'altra cosa bella delle plancia, sai qual è? È che possiamo, ok, in posizione, cominciamo. Dondolare l'asso sinistra, ok? Piccoli movimenti durante la plancia aumentano, diciamo, le difficoltà dell'esercizio, l'intensità dell'esercizio e vai a, tra virgolette, spostare su diverse fibre muscolari, ok? E carico, che permette probabilmente avere piccoli micro ricuperi durante l'allenamento e questo ti permette di fare di più, facendo di più avremo più risultati, ok? Ancora 30 secondi, continuiamo, proprio a un dondolo, destra-sinistra e destra-sinistra, continuate, vai, 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 abdominali a go-go e vedrete che anche quando facciamo tante plancia, l'altro beneficio di fare tutte queste plancia è che ti aiuti la schiena più che altro, ti fortifica anche tutta la colonna vertebrale, aiutandoti a evitare piccole mal di schiena. Continuiamo ancora, 5, 4, 3, 2 e passiamo sul prossimo esercizio. Amo anche i classici abdominali, non soltanto quelli poi strampalati, nuovi, diversi, complicati, allora scendiamo giù, ok? Portiamo le spalle dietro la testa, non incrociate proprio le dita, ma chiudi uno sopra l'altro, dietro la nuca e sollevi le spalle, ok? Proprio le spalle su, un classico upward crunch, ok? Un half crunch delle spalle, ok? Solleva per i bassi abdominali. Allora, quando state lavorando in questa posizione, provate ad immaginare un canovaccio, proprio un canovaccio che lo stai stropicciando, ok? Rotolando e questo ti passa a salire. Oh, c'è il sole di Fuerte che ce l'ho negli occhi, ma meravigliosa. Pensa che è novembre e so così a Fuerteventura a novembre, meraviglioso. Un sole che spacca le pietre, veramente meraviglioso. Continuiamo, facciamo 8 e 7, 6, 5, 4, 3, 2, continuate, 8, 7, provate di staccare ogni volta proprio le scapole da terra, le spalle almeno, ok? 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, ultimo 8, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and relax. Passiamo al prossimo esercizio. Il yoga si chiama boat pose, allora sollevo le gambe da terra e lo dobbiamo provare per trattenere la posizione, ok? Tengo su e scendo giù. Abdominali tesi. E su e scendo giù. E su e scendo giù. Se le volete rendere ancora più difficili potete mettere una superficie instabile sotto i glutei tipo cuscino. In questo momento ho una superficie non tutta omogenea e di conseguenza per me è più difficile di mantenere l'equilibrio che è eccellente, che vuol dire attivo, più fibromuscolari. e scendo giù. Continuando. Su e giù. Dominali più tese possibile. Su e giù. Ancora, due volte. E giù. E ultima. E scendi. Eccellente. Andiamo sul prossimo esercizio. Adesso portate i fianchi in neutro, ok? E le spalle sono sollevate, le gambe sono sollevate, giù? Uno, due e cambio. E cambio. Trattenendo proprio i vostri fianchi. Non farli muovere. Non inercare la schiena. E controllo. Ok. Ancora 45 secondi. Continuo. Vai. Vai. E controllo. Guarda l'ombelico. Ok. Guardate il vostro ombelico. Trattenendo sempre l'abdome. Ok. Ancora 30 secondi. Continuiamo. Vai. Controllo. Abdominali tesi. E tesi. Vai, vai. Ancora. 20 secondi più o meno. Continuiamo. Se ti dà fastidio il collo, potete tenere una mano indietro la nuca. E l'altra perché segue le gambe. Ok. Ancora. Trattengo. Ancora. 4. 3. 2. And relax. Passiamo al prossimo esercizio.